Buonasera signori, a questo punto vi proponiamo un numero fuori programma, si tratta di una dimostrazione dei nostri insegnanti di tango argentino che si chiamano Massimo Zuffi e Olga Sandra Paredes, direi un applauso, anche perché è iniziato da poco un nuovo corso all'interno della scuola e quindi vorremmo mostrarvi il fascino di questa disciplina che disegna il suo ritmo con armoniose camminate e figure e vorremmo anche ricordarvi il loro motto, ballare è vita, è bellezza. Ballano il comparsita del tango argentino Massimo Zuffi e Olga Sandra Paredes, un applauso! Grazie! 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 Grazie!